Quando passi anni nel business dell'ammazzamento di orchetti come me, impari delle lezioni importanti. Puoi chiamare gli sgherri in tanti modi, ma morti è sempre meglio. Due trappole sono meglio di una, sempre. Un po' come queste piazzate dalla mia amica, la Sosseres. C'è una cosa strana però. I tizi che stiamo combattendo sono simili a noi, con poteri fortissimi e roba e così. Noi sei a capire che non sei mai l'unico. Anche gli altri sono speciali, ecco. Beh, non quanto me. Ma la cosa più importante tra le cose importanti è che la breccia è salva. Grazie a me, il War Mage. Oh, e grazie anche a questi altri. Mi hanno aiutato. Molto utili, sì. Ha, ha, medico!